Ciao a tutti, oggi book haul del mese di maggio che non è ancora terminato ma non comprerò altri libri fino alla fine del mese e vorrei dirvi tantissimo che non ho intenzione di comprarne per un po' nel senso che ho tante cose belle che ho voglia di leggere però sapete bene che questa frase ha valore fino a pagina 10 comunque davvero cercherò di non buttarmi su troppi altri acquisti credo che in giugno ci sia almeno un'occasione in cui comprerò dei libri ma probabilmente, molto probabilmente usati a un mercatino nello specifico, per il resto vorrei darmi un po' un freno per il momento almeno, comunque vedremo allora oggi nonostante sia mercoledì se non ho fatto male i miei calcoli vi faccio un book haul, di solito questo tipo di video ve lo faccio il sabato però a livello di programmazione dei video in questo periodo sono un po' attaccata via cerco di registrare il più possibile appena posso, non avevo pronte altre cose e allora ho deciso di mostrarvi che cosa è entrato in casa ultimamente a dire la verità, di libri comprati da me a prezzo pieno ce ne sono 4 e 2 in offerta aderendo a un'offerta di una casa editrice ho anche ricevuto però dei regali per la festa della mamma e c'è un invio da una casa editrice allora partiamo dalla coda delle promozioni Pea Quick vi avevo mostrato nel precedente video i primi libri che ho acquistato con questa promozione sono stati due libri di Stephen King che sapete sono editi quasi tutti Pea Quick stavolta mi sono buttata su altri due titoli su cui ero curiosissima di uno mi avete già sentito parlare perché l'ho letto immediatamente si tratta di Cloud Atlas di David Mitchell ho registrato un video dedicato a questo libro e alla città fra le nuvole di Anthony Doerr vi ho spiegato in quel video che ci sono diversi punti di contatto fra questi due libri quindi non mi dilungo certo ora a parlarmene poi tra l'altro la storia è parecchio conosciuta siamo nell'ambito della fantascienza di una fantascienza piuttosto particolare però siamo anche nell'ambito del romanzo storico perché di fatto seguiamo le vicende di 6 personaggi in 6 periodi storici diversi e questi 6 personaggi in questi periodi storici sono tra loro connessi abbiamo un notaio nel 1845 durante una traversata per mare da isole tropicali a San Francisco abbiamo un musicista molto giovane nel 1931 inglese ma che lavora e compone in Belgio abbiamo una giornalista d'inchiesta negli anni 70 che deve smascherare diciamo degli oligarchi del nucleare abbiamo un editore londinese negli anni 80 che andrà incontro a vicende rocambolesche una distopia nel 2100 e oltre con la presenza di cloni artifici abbiamo un sistema politico assolutamente distopico e abbiamo un ragazzino in un mondo post-apocalittico tutte queste vicende sono tra loro collegate e a me il libro è piaciuto tantissimo ve l'ho già detto poi un libro che credo che praticamente tutti coloro che seguono Penny Lane on the Tube Jessica abbiano comprato specialmente visti gli sconti Piquic e Pacinco di Min Jin Lee in realtà io questo libro ce l'avevo presente soprattutto perché ne avevo sentito molto parlare da canali anglofoni era uscito appunto in inglese con il titolo Pacinco in Italia era stato portato da PM se non mi sbaglio con il titolo La moglie coreana non so perché a me quel titolo non ha mai ispirato particolarmente ma sapevo che si trattava dello stesso libro è poi uscito per Piquic con il suo titolo originale e con questa copertina che io adoro onestamente mi piace davvero tantissimo qui parliamo di una storia familiare tra la Corea e il Giappone e andiamo ad analizzare la vita se non ho capito male principalmente di una donna che si trasferisce in Giappone lei è coreana e quindi andremo a toccare anche i temi delle invasioni giapponesi sulla Corea degli immigrati coreani in Giappone e cose di questo genere credo che il libro sia intriso di vicende sentimentali familiari intime della protagonista e non solo ma anche appunto che abbia questo contesto storico piuttosto presente e preponderante importante all'interno della storia è un libro generalmente molto molto amato io l'ho visto in un sacco di classifiche di libri preferiti del 2021 all'estero appunto ma se ne parla molto anche qui è uscita una serie televisiva perché voglio vedere assolutamente dopo aver letto il libro e anche qui non vedo l'ora di leggerlo ma io questa cosa del non vedo l'ora di leggerlo devo smettere di dirla perché se ho comprato questi libri un motivo c'è allora passiamo a dei regali che ho ricevuto per la festa della mamma i primi due arrivano da mio marito e mia figlia se mi seguite per il make up sapete che mio marito mi ha regalato un ombretto di Chanel ma non potevano assolutamente esimersi da acquistarmi anche dei libri hanno pescato tra i piani più alti della mia wish list e ho ricevuto di Honoré de Balzac Illusioni perdute Illusioni perdute è l'ultimo dei mattoni francesi che affronterà Elena Zodiaco nel suo programma di lettura mattoni francesi quest'anno quelli che sta leggendo il gruppo di lettura in questo momento insomma dai primi da gennaio fino a ottobre mi pare io li ho già letti li avrei anche li letti volentieri ma avendo tanta roba da leggere sinceramente ho saltato per stavolta prima o poi li rileggerò Illusioni perdute di Balzac che invece non l'ho mai letto di Balzac ho letto Papagorio e Eugène Grandet e basta questo è il suo romanzone lui stesso lo definisce tale vi leggo un attimo qui dietro dice è il volume monstre è l'opera capitale nell'opera così nel 1843 Balzac annunciava la scrittura delle Illusioni perdute credo che sia il capitolo finale della sua commedia umana un romanzo esteticamente innovativo e alimentato dalle esperienze centrali nell'esistenza dell'autore i diversi mestieri del libro e della scrittura dallo stampatore al giornalista che narra le vicende del tipografo David Sechar di sua moglie Yves e soprattutto di Lucienne de Rubenpre cognato e amico fraterno di David bello povero e ambizioso Lucienne sogna la gloria poetica e il successo mondano e dalla natia a Guillaume si trasferisce a Parigi certo di procurarsi entrambi succederà ovviamente no visto il titolo le sue speranze si riveleranno però illusione destinate a perdersi tra gli splendori e le miserie della capitale mi ispira da morire ho deciso che appena quando sarà possibile recupererò i classici in questa edizione mondadori perché mi piacciono davvero tanto hanno sempre degli apparati di introduzione di prefazione di approfondimento del testo veramente interessanti in questo caso abbiamo la traduzione di Daniella Selvatico Estense e Gabriella Mezzanotte con uno scritto di Alessandro Piperno lo leggerò mentre lo leggeranno anche gli altri nel gruppo di lettura di Ilenia e poi era entrato abbastanza di recente nella mia wish list ma mi interessava moltissimo sono troppo felice che mi abbiano regalato questo libro stupendo tra l'altro è enorme è gigantesco questo libro è un libro di una scrittrice italiana Melania Soriani e si intitola Bly in copertina abbiamo l'immagine di Nelly Bly che è lo pseudonimo il nome d'arte di non mi ricordo il nome Elisabeth comunque di quella che è diventata una giornalista d'inchiesta la giornalista d'inchiesta dei primi del novecento che ha fatto più parlare di sé si tratta della giornalista che tra le altre cose perché di inchieste ne ha portate a termine parecchie ha finto di essere pazza e si è fatta rinchiudere ai primi del novecento in un manicomio femminile negli Stati Uniti lei è nata in Pennsylvania nel 1864 si è fatta rinchiudere in questo manicomio per testimoniare le condizioni il trattamento delle donne all'interno dei manicomi femminili io ho a casa edito per edizioni clandestine il suo reportage che non ho ancora letto ma ve ne ho già parlato tanto perché mi ispira moltissimo certo bisogna essere un po' in mood perché si tratta di un reportage che sicuramente sarà piuttosto crudo e difficile da leggere questa non è una vera e propria biografia c'è scritto qui infatti romanzo è una biografia romanzata della vita di questa donna neanche a dirlo mi piacerebbe tantissimo abbinare le due letture quindi questo romanzo e il reportage di Nelly Bligh felicissima di avere questo libro ma mia sorella e mia mamma mi hanno regalato altri due libri stupendi stupendi uno è una vera chicca per me anche qui pescati dalla mia mischilist allora era entrato proprio Desfrus veramente di recente in uschilist questo libro di Friedrich Durematt Il sospetto che non so se sia una nuova pubblicazione di Adelphi anche se il libro ovviamente non è nuovo o se sia una ripubblicazione non ne ho idea di Durematt ho letto a fine dell'anno scorso La panne ve ne ho parlato mi è piaciuto molto credo che sia un autore veramente originale soprattutto per quanto riguarda l'approccio a certi temi e anche ad un genere ovvero il genere del giallo non si può parlare di questi libri come di gialli è proprio personale e originale l'addentrarsi in questo genere il sospetto che è brevissimo come quasi tutti i libri di Durematt ha una trama un incipit uno spunto insomma che mi ispira da morire siamo insieme a un medico se non mi sbaglio che è stato di recente operato si trova in ospedale e sta così visionando sta sfogliando delle riviste vede l'immagine di un generale dell'SS un ufficiale dell'SS durante il suo lavoro in un campo di concentramento e a lui pare di riconoscere in quella fotografia un suo amico molto amico e collega quindi nasce in lui un atroce sospetto che dovrà in qualche modo dirimere credo che sia un romanzo praticamente quasi totalmente psicologico e deve essere davvero molto molto interessante la scrittura di Durematt è fantastica secondo me magnetica molto efficace molto dritta al punto non vedo l'ora di leggerlo avevo detto che non lo dicevo più e poi veramente una chicca bestiale io questo voglio leggerlo quest'estate perché secondo me è una lettura perfetta per me nella stagione estiva parliamo di Charles Dickens e di America questo non è un romanzo di Charles Dickens io vi ho detto tante volte che prima o poi voglio arrivare ad aver letto tutta l'opera di Charles Dickens almeno i suoi romanzi principali questo è il suo reportage di viaggio il suo reportage di viaggio del suo viaggio in America del 1842 io mi sono come dire mi sono fissata sul voler leggere questo libro da che ho letto la biografia che vi ho citato un sacco di volte quest'anno su Dickens di Peter Acroyd parla di questo reportage del viaggio in America di Dickens la cosa in sé è già di per sé molto strana soprattutto letta con nostri occhi contemporanei cioè Dickens nel 1842 all'età di 30 anni va in tournée va in tournée perché Dickens recitava in teatro brani tratti dai suoi libri ed era famosissimo famosissimo anche all'estero e trattato come oggi tratteremmo un cantante un attore molto molto famoso lui parte per gli Stati Uniti con grandissime aspettative e questo è il resoconto appunto di questo viaggio se conoscete un po' la scrittura di Dickens potete immaginare quanto di brillante di spirituoso di ironico di amaro anche ci sia in questo resoconto vi voglio leggere qui dietro quando Charles Dickens parte per l'America nel 1842 è forse l'uomo più famoso del suo tempo a re Carvisi l'uomo più famoso del suo tempo faceva lo scrittore severo e attento osservatore della realtà sociale del suo paese arriva nel nuovo mondo convinto di trovarvi realizzati gli ideali rivoluzionali di libertà giustizia e progresso esplora così le regioni della costa orientale dei grandi laghi degli Stati Uniti e del Canada osservando da un punto di vista distintamente britannico la vita che vi si conduce già qui mi attrae da morire di volta in volta critico spirituoso e incisivo questo diario di viaggio è uno sguardo unico su Nord America del XIX secolo le descrizioni franche e spesso umoristiche raccontano tanto il viaggio per mare comicamente miserabile cioè io mi sbellicherò non ho dubbi quanto il meravigliato stupore per la magnificenza delle cascate del Niagara ma non tutto ciò che Dickens incontra sulla sua strada è destinato a suscitare ammirazione e le rose aspettative del famoso romanziere si infrangono di fronte agli aspetti più controversi di quella terra rivoluzionaria che in capo qualche tempo comincia ad apparirgli come governata dal denaro costruita sulla schiavitù e malinformata da una stampa corrotta America è quindi la storia di un rapporto di amore e odio verso gli Stati Uniti su abitanti da parte di uno dei più moderni e americani tra virgolette rappresentanti del vecchio mondo tra l'altro questa edizione ha anche delle immagini questa è l'immagine del postale Britannia su cui viaggiò Charles Dickens ma ce ne sono diverse ci sono immagini di paesaggi immagini di città ditemi se questa non è la mia lettura dell'estate non ho dubbi che lo sarà mamma che voglia poi ringrazio l'ippocampo per avermi inviato la seconda parte delle cronache dell'acero e del ciliegio di Camille Monceau libro 2 la spada dei Sanada guardate che meraviglia è esattamente identico a parte per i colori alla prima parte di questa quadrilogia dovrebbe essere una quadrilogia che aveva invece spessore e scritte in azzurro i libri ippocampo sono sempre stupendi di questo vi ho parlato l'avevo letto appena ricevuto e mi era piaciuto molto si tratta di una storia che è un misto tra una storia di formazione un romanzo storico e un romanzo d'avventura è classificato come libro per ragazzi ma io sinceramente almeno ho letto il primo volume sì e no nel senso che ci sono anche tematiche abbastanza serie e anche un po' crude seguiamo le vicende di Ciro qui si fermano a un certo punto qui ovviamente non vi leggo la trama perché se non avete letto il primo libro ha poco senso spero a giugno di riuscire a leggerlo perché lo aspettavo da parecchio vi avevo detto che aspettavo da parecchio il seguito quindi insomma ho voglia di leggerlo e vi farò sicuramente sapere intanto ringrazio ancora l'ippocampo allora andiamo a dei libri che ho comprato io a prezzo pieno poi vi mostro anche due libri che ha acquistato mio marito per sé ma che vorrei leggere anch'io allora mi sono concessa un regalo questo è veramente un regalo perché non era affatto necessario che io lo acquistassi e parliamo di questo libro di James L. Roy i miei luoghi scuri perché non era necessario che lo acquistassi perché in casa avevo la coppia che ha letto mio marito mille anni fa che è ancora apprezzata in lire 7900 lire in questa edizione Super Pocket Bonpiani era un rizzoli non mi ricordo ed è questa come vedete quasi da edicola onestamente avrei potuto provare anche a leggerlo qui questo libro ma oggi sono due problemi fondamentalmente uno che queste edizioni Super Pocket sono scritte piccolissime e io comincio davvero a fare tanta fatica a leggere con carattere di questo tipo avrei anche potuto sforzarmi sicuramente però la lettura mi riesce davvero molto stancante 2 questo libro è di mio marito e io non posso assolutamente spaccargli la costina lui legge così senza aprirlo io con i libri fatti così con questo tipo di relegatura faccio veramente fatica tanta tanta ma lui è proprio la fissazione sulla costina che non deve essere rotta nonostante sia un libro vecchio quindi voglio dire rovinato rovinato ma la costina deve essere in integra non dico niente perché ogni lettore ha le sue manie in ogni caso se questo libro non fosse stato edito in questa collana dei classici contemporanei buon piani avrei comunque fatto lo sforzo ma queste sono le mie edizioni preferite ve l'ho già detto tantissime volte amo tutto di questa edizione di queste edizioni la leggibilità è a dir poco straordinaria mi piace come si aprono come stanno aperti come non si rovinano mi piacciono le copertine mi piace la fotografia dell'autore sempre fotografie d'autore qui dietro che è bellissima quindi insomma me lo sono concessa per 14 euro voglio dire non è neanche un menù in all you can eat quindi insomma mi sono fatta sto regalo quella che vedete in compertina è la fotografia della madre di James Elroy vi avevo già detto quando vi ho parlato di LA Confidential che volevo tantissimo recuperare questo libro che è un po' fuori dalla produzione classica di Elroy questa è una sorta di memoir ma neanche allora cosa accade la madre di James Elroy viene uccisa quando James ha 10 anni viene uccisa viene ritrovata dai ragazzini per strada e le indagini non porteranno mai al ritrovamento dell'assassino a scoprire chi ha commesso questo delitto è ovvio che questo evento abbia influenzato moltissimo la crescita la vita di James Elroy del figlio della vittima che cosa fa Elroy a distanza di parecchi anni perché appunto l'omicidio è avvenuto che lui aveva 10 anni allora la madre di James Elroy venne assassinata in una tragica notte a El Monte quando lo scrittore aveva appena 10 anni la trovarono dei ragazzini riversa sulla schiena il coroner stabilì che era morta per asfissia dovuta a strangolamento mediante lacci la polizia non scoprì mai che fosse l'autore del brutale omicidio 36 anni dopo Elroy riapre l'indagine presa a visione del fascicolo della polizia relativo a quel caso insoluto lui stesso diventa investigatore per scoprire l'assassino con le fotografie del cadavere della madre davanti agli occhi fa della sua autobiografia un romanzo di una forza sorprendente costruire storie prima immaginarie e poi autobiografiche ha permesso a questo grande scrittore di sopportare una realtà cruda e impietosa di scrivere le regole del noir di salvare la figura di sua madre e se stesso dai successi più oscuri della propria coscienza ne ho sentito parlare benissimo è considerato un classico contemporaneo viene studiato anche nelle università proprio per l'originalità della narrazione che è una via di mezzo tra tante cose tra il romanzo noir e la storia vera tra l'autobiografia e il romanzo di inchiesta deve essere meraviglioso e quindi insomma l'ho voluto recuperare nella mia edizione preferita un altro recupero causato da Jessica per Elena The Tube è di Nancy Mitford rincorrendo l'amore anche questa è una ripubblicazione per Adelphi questo libro era edito anni fa non mi ricordo neanche case editrice tra l'altro con un'altra traduzione mi pare fosse inseguendo l'amore non vorrei dire sciocchezze mi ispira da morire perché qui è più l'ambientazione e le dinamiche tra i personaggi che mi attirano molto nonché la scrittrice Nancy Mitford è la sorella più grande delle sei sorelle Mitford molto famose dalle vicende di vita anche scandalose a tratti Nancy Mitford scusatemi qui continuo a passare gente fuori dalla finestra ma non ci posso fare niente evidentemente allora Nancy Mitford aveva scritto quattro romanzi prima di questo non ottenendo praticamente alcun tipo di successo né di seguito fu l'amico Evelyn Vogue che la incoraggiò a riprovare un'altra volta con questo libro ebbe moltissimo successo si ispirò al suo fidanzato del periodo che era allora fu l'incontro con l'uomo che sarebbe diventato il grande amore della sua vita Gaston Gaston Palewski colonnello delle forze armate della Francia libera a fornire la respirazione non a caso nel libro a lui dedicato Palewski compare sotto le spoglie del seducente Fabrice che farà innamorare di Selinda la svagata incantevole protagonista e questa volta il successo fu immediato e fenomenale poiché a un pubblico provato dagli stenti della guerra il romanzo forniva i suoi ingredienti preferiti l'amore l'infanzia i veleni e il fascino inesauribili della società inglese come tutti i grandi romanzi ha scritto Alan Bennett rincorrendo l'amore è un altro mondo che dopo oltre tre quarti di secolo non ha perso un grammo della sua piacevolezza un mondo in cui Nancy Mitford mette in scena i suoi personaggi inguaribilmente eccentrici ma dalle maniere impeccabili protagonisti di amori ardenti e insieme ridicoli con un perfetto dosaggio di ironia indulgenza e feruccia io credo che qui troverò quella scrittura tipicamente inglese che io amo alla follia tra l'altro qui dietro è riportato anche un pezzettino di la sovrana lettrice di Alan Bennett appunto perché in un episodio in cui appunto lo scrittore fa innamorare la regina Elisabetta della lettura si parla proprio di questo libro e del fatto che appunto la regina non riuscisse a staccarsene sono curiosissima che ve lo dico a fare allora poi un colpo di testa un colpo di testa perché io ero alla cassa in coda in feltrinelli con in mano no non questi questi sì sì certo con in mano questi due libri e dietro di me c'era lo stand con le ultimissime uscite io ho visto questo libro ho fatto così non ho guardato niente non ho guardato i copertini cioè niente ho letto solo il titolo e l'autrice che mi dava una certa garanzia anche se non l'ho mai letta in realtà ma lo so perché mi fido moltissimo l'ho preso e niente sono andata a cassa l'ho pagato me lo sono portato a casa parliamo di una nuovissima uscita di Natasha Solomons io Mona Lisa Natasha Solomons è l'autrice tra le altre cose dei Goldbaum che è una di quelle storie familiari sempre editane ripozza di una famiglia ebraica tra gli Stati Uniti mi sembra tra la Germania e gli Stati Uniti adesso non ricordo è una di quelle saghe ripeto a cui io faccio il filo da un sacco di tempo è tanto che la voglio acquistare ne ho sentito parlare benissimo da diverse persone io seguo spesso persone anche molto diverse tra di loro anche come gusti letterari come scelte di libri che leggono e quando trovo rispondenza di 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 gradimento diciamo di un libro da più parti mi viene ancora più voglia di leggerlo allora io Mona Lisa è credo la storia non tanto della vita di Mona Lisa quindi all'inizio credevo fosse più la visione diciamo delle vicende legate al famoso ritratto di Leonardo da Vinci delle vicende appunto di Mona Lisa viste dai suoi occhi quindi il racconto al femminile qui credo che forse c'è questa parte ma in realtà questo è un romanzo che tratta delle vicende del quadro del quadro in sé e quindi di quello che è accaduto nei secoli a quel dipinto allora dovete sapere che nella mia famiglia c'è una malattia una malattia che mio papà ha attaccato a gran parte della famiglia ne compresa non tanto quanto lui ma mi sto avvicinando ovvero la passione sfrenata per Leonardo da Vinci mio papà credo che abbia letto qualsiasi cosa sia mai uscita su Leonardo da Vinci ha un'ammirazione profondissima per questo enorme personaggio della storia dell'umanità anche perché mio papà è sul vicino di casa sapete che i miei genitori sono di Vinci e la casa dove è nato mio papà è a pochi a un chilometro forse dalla casa natale di Leonardo da Vinci che è nato in una casa contadina in campagna perché era figlio legittimo era figlio di una serva del notaio da Vinci che la mise incinta appunto lei è partore molto giovane e Leonardo da Vinci passò la sua infanzia nel paese dei miei genitori nella campagna circostante ovviamente Vinci è una celebrazione a cielo aperto di Leonardo da Vinci e della vita che svolse lì poi Leonardo da Vinci si trasferì a Firenze prima nella bottega del Verrocchio dove iniziò a dipingere ma quando era giovane giovanissimo anche prima dei 15 anni aveva già scritto qualcosa in merito all'esperimento sul volo in merito al funzionamento di alcuni macchinari le ruote dentate cose di questo genere e aveva già elaborato qualche schizzo qualche ritratto e così via poi vabbè da Firenze in poi la storia di Leonardo da Vinci è piuttosto conosciuta io ho regalato mio papà a Natale una biografia splendida la biografia più accreditata e più dettagliata su Leonardo da Vinci come uomo ma soprattutto come artista come come inventore in generale scritta da un autore americano negli Stati Uniti si studia tantissimo Leonardo da Vinci ci sono tanti studi importanti su questa figura e io la bramo nel senso che vorrei che mio papà me la prestasse o un po' cioè vorrei chiedergliela quando so che la leggerò subito però prima o poi la leggerò tutto quello che ha a che fare con Leonardo da Vinci a me attrae tantissimo qualsiasi cosa qualsiasi io ho lessi il codice da Vinci per quel motivo lì all'epoca né più né meno tant'è che io di Dan Brown poi non ho letto altro non che demonizzi la lettura di Dan Brown cioè lo sapete come la penso si può leggere qualsiasi cosa ma io quello l'ho lessi solo ed esclusivamente perché si intitolava così e niente quindi questo non potevo assolutamente non accaparrarmelo e poi ho voluto recuperare sempre nell'ottica della rilettura di classici che ho letto tanti anni fa e che vorrei riprendere in mano vorrei rileggere di Thomas Pan di Bundenbrock io ce l'ho una copia di Bundenbrock quella che lei si ha 16 anni che è un Garzanti le motivazioni per cui ho riacquistato il volume sono le medesime del motivo per cui ho acquistato un altro volume di questo è scritta piccolissima le pagine sono ingiallite sono quasi sbiadite io di quella copia non mi libererò mai 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 perché io ho amato quel libro tantissimo ed è dopo Delitto e Castigo fa parte della stessa estate in cui Lessie ve lo dico sempre Delitto e Castigo il Bundenbrock il Rosso e Nero e Madame Bovary è l'estate che mi ha cambiato la vita da lettrice e oserei dire non solo non ho potuto resistere a questa copia che trovo semplicemente bellissima e poi ve l'ho detto mi piace tantissimo mi piace tantissimo questa collana di classici mondatori qui è scritta normale insomma ne è grande ne è piccolo è un librone mi è tornata la voglia di questo libro per due motivi fondamentalmente uno perché sto leggendogli Effinger di Gabriel Tergit ve l'ho mostrato in un precedente video che è un classico ritrovato del novecento su una famiglia berlinese una famiglia di imprenditori che avrà grande successo ma che poi andrà a scontrarsi con con l'avvento del nazismo qui parliamo di una famiglia in decadenza l'ambientazione precedente però siamo sempre in quell'ambito geografico e parliamo sempre di una famiglia di imprenditori e della sua decadenza è il romanzo familiare per eccellenza questo è quello che a me ha introdotto ai romanzi familiari in generale è quello che vado a cercare quasi sempre quando scelgo di leggere una storia familiare cerco sempre eventuali paragoni con questo libro e quindi ho molta molta voglia di leggerlo poi ne ha parlato di recente Elena Zodiaco anche Elena ha riletto da poco e già ci pensavo da un po' mi è tornata tantissimo la voglia mi sono imbattuta in questa copia straordinaria e non ho potuto lasciarlo lì ogni stessa i due libri che ha preso mio marito se io non capisco più niente quando vedo Leonardo da Vinci non capisce più niente quando vede uno scrittore giapponese qualsiasi qui parliamo di Shimada Soji che non so se si pronuncia così gli omicidi dello zodiaco questo è un giallo edito Giunti che ha una storia assurda questo libro era già stato pubblicato aspettate un secondo perché ho letto qui dietro allora innanzitutto è ambientato negli anni 30 l'autore è nato nella provincia di Hiroshima nel 1948 ed è stato acclamato dalla critica internazionale come il dio del misteri romanziere saggista autore di racconti e esordito nel 1981 con gli omicidi dello zodiaco finalista del Edogawa Rampo Award a cui sono seguite varie serie di misteri di grande successo nel 2009 Shimada ha ricevuto il prestigioso Japan Mystery Literature Award allora le vicende sono piuttosto cruente partono dal fatto che dunque Eikichi ma mai mi pronuncia Umezawa un uomo ricco eccentrico appassionato di astrologia alchimia e occultismo viene ritrovato morto con il crano sfondato da un oggetto appuntito nel suo studio chiuso a chiave dall'interno qui ci sono le vicende che parlano del ritrovamento di questo cadavere e poi da questo ritrovamento di una serie di omicidi seriali piuttosto cruenti e truculenti ve lo dico perché qui ci sono scritti nove lì e nove lì ecco perché possono infastidire qualcuno comunque sappiate che sicuramente è un giallo piuttosto truculento ma qual è la cosa molto particolare di questo libro è come com'è l'impianto allora a quanto scrive Yoshika Kazumi che credo che sia uno dei personaggi qui c'è anche tutto l'elenco dei personaggi dice a quanto mi è dato sapere il caso degli omicidi dello zodiaco una serie di delitti compiuti in Giappone nel 1936 resta uno dei più strani sfuggenti nella storia del crimine nessuna tra le persone coinvolte all'epoca avrebbe potuto immaginare la meccanica e si riteneva impossibile trovare l'assassino o gli assassini così i dettagli relativi al caso furono resi pubblici con la speranza che il mistero potesse essere risolto questo libro inizia oltre 40 anni dopo gli eventi quando quegli omicidi restavano ancora avvolti nell'ombra i lettori potranno cercare da soli di ricomporre il complesso puzzle proprio come io il mio grande amico Mitarai Kiyoshi siamo riusciti a fare in quel decisivo giorno di primavera del 1979 assicuro di aver riportato tutti gli elementi necessari gli stessi su cui dovemmo lavorare quindi capite che la struttura è veramente intrigante praticamente questi due personaggi si ritrovano con in mano un'indagine degli indizi e devono andare a ricostruire delle cose quindi noi lo faremo con loro e anche a livello grafico questo libro è pieno di disegni cartine mappe schemi successioni numeriche proprio perché noi con loro andremo a dirimere quasi con un procedimento enigmistico questo caso direi che è la versione facilitata della mascella di Caino che no non comprerò mai e mai proverò a risolvere perché tanto sono sicura che non ce la farei prima due non ho tempo tre non ho la pazienza l'enigmistica a quel livello non è cosa per me guidata invece potrebbe diventarlo lo leggerà con mio marito poi sicuramente lo leggerò anch'io e poi ha acquistato di Vito Franchini il nove che uccide che è una recente uscita di questo autore italiano qui si tratta di un thriller puro proprio di quelli da relax sotto l'omprello puro puro intrattenimento molto classico la protagonista è una donna un'ispettrice se non mi sbaglio che si trova da Roma si trasferisce a Verona per delle cose accadute a lei precedentemente che in realtà sono contenute nel romanzo precedente a questo perché abbiamo scoperto arrivati a casa che questo è un sequel ma è un sequel solo per quanto riguarda la la trama orizzontale quindi diciamo che ci sono i personaggi principali che hanno una vita che viene così narrata nel corso di vari romanzi un po' come per i romanzi di Camilla Lagberg per i romanzi di John Esbo questo non impedisce affatto la lettura dei libri anche in maniera disordinata ecco e separata in ogni caso senza dubbio se questo gli piacerà andrà a ritroso a prendere anche il primo che ve lo dico se vi dovesse interessare si intitola Il predatore di anime questo ripeto questo dovrebbe essere proprio un classico del thriller cioè un classico thriller strutturato perché è bellissima ha in rilievo queste parti qui c'è il 9 stampigliato vi dico due parole sull'autore Vito Franchini 44 anni origini mantovane natali persiani e una vita trascorsa a cambiare case nazioni e continenti laureato in legge ufficiale di polizia giudiziaria riversa nei suoi scritti anni di esperienze in indagini su vari ambiti criminali nonché le sue passioni da sempre musica antropologia e numerologia questi aspetti mi intrigano parecchio Il 9 che uccide il suo secondo romanzo edito da Giunti sequel del bestseller Il predatore di anime del 2021 thriller di sorprendente originalità che ha rapidamente scalato le classifiche italiane ecco questo è proprio il classico libro che mi ha marito decidi di leggere quando è stanco in vacanza e che potrei tranquillamente anzi vorrò sicuramente leggere anche io se l'avete letto o avete letto il precedente fatemi sapere che cosa ne pensate ma in generale fatemi sapere un po' di tutti questi libri che cosa ne pensate se li conoscete se vi intrigano se vi incuriosiscono insomma come sempre scrivete quello che volete qui sotto nei commenti io come sempre vi ringrazio tantissimo vi mando un bacio e alla prossima se vi va ciao ciao